Contorno rapido, veloce, senza sporcare troppe ventole, peperoncini verdi in frigidice ad aria. Prendiamo i peperoncini, puliamoli, mettiamoli in frigidice ad aria a 180 gradi per 20 minuti e lasciamoli andare. Io ho aggiunto anche un po' di aglio e pomodorini. Poi a metà cottura li giriamo e per gli ultimi 5 minuti li facciamo andare a 190 gradi. Aggiungiamo basilico e... In cucina con mamma vi auguro buon appetito! E mi raccomando, restate sazi! Ciao amanti della cucina, buon appetito!